Uniformo l'incarnato con il fondotinta made to last garantisce un'ottima copertura per tutto il giorno resistendo anche alle alte temperature e all'umidità. Lo stick concealer consente facilmente di correggere imperfezioni di viso e di contorno degli occhi. È perfetto per chi è meno esperto e grazie alla sua coprenza da media a alta garantisce un risultato impeccabile e naturalmente matt. Un accorgimento molto importante è quello di stendere bene il correttore con i polpastrelli prima di fissarlo con la cipria per un risultato assolutamente naturale. Utilizzo la cipria like a doll per fissarlo. Suggerisco questo tipo di correttore per le pelli normali, miste e grazie!